Che altro è un tema abbastanza tabù, mi piace immaginare, dare questa immagine del paradiso come qualcosa dove ci si ferma per un po' e poi si riparte, quindi è una canzone che mi commuove molto, mi diverte cantarla e fa parte del mio repertorio, diciamo così, da teatro solo una battuta su Carla Bruni, tu sei arrivato, c'era anche Carla Bruni, tutti ci ricordiamo quanto era spassoso il tuo saluto a Carla Bruni, meno male che c'è Carla Bruni, la presentai nel 2010, io quest'anno me la sono ritrovata proprio dietro al palco, un attimo prima di salire per la mia esibizione, è stata insomma molto gentile, molto carina con me, mi ha il sorriso, mi ha dato la mano, però che per lei insomma è una cosa abbastanza... Grazie Simone, bocca al lupo! Grazie a voi!